Oggi è stata premiata l'eccellenza sportiva della regione Piemonte di questi atleti disabili che si sono fatti valere sul campo acquisendo titoli e medaglie a tutti i livelli e questo grazie alla regione Piemonte e al suo assessorato così sensibile verso questo mondo sportivo che cresce ogni giorno, non solo attraverso le richieste ma anche attraverso i risultati che fanno registrare sul campo. Grazie alla regione Piemonte questo premio istituito anni fa continua nonostante la difficoltà del momento che stiamo attraversando e questo grazie alla sensibilità del suo assessorato. Bellissimi risultati, bravi ragazzi e noi ci auguriamo che tutto questo possa continuare ancora anche domani in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.